I nuovi arrivati sono ragazzi eccezionali, ottimi calciatori, quindi sensazione buonissima, penso che potremo fare sicuramente bene, speriamo, questo sicuramente è l'obiettivo primario. Sicuramente c'è la volontà da parte di tutti di voler far bene, come c'era un po' l'anno scorso la rivincita per qualcuno di noi, c'è anche quest'anno, vogliamo fare questa nuova avventura in C2, cercando un po', non dico di riscattarci delle stagioni passate un po' così e così, però sicuramente vogliamo metterci di tutto per farci vedere e per dire che ci siamo anche noi. Torniamo a parlare di ciclismo, domattina alle 10.30 in punto, sarà Paolo Brosi a braccetto con il sindaco di Camaiore, Cristiano Ceragioli, a dare il via all'edizione 99 del Gran Premio Città di Camaiore, quella del cinquantesimo compleanno. Il percorso della gara maschile sarà quello molto collaudato degli scorsi anni, dopo la partenza da Camaiore, del passaggio per Capezzano Piano, Re Pietrasanta e Marlina di Pietrasanta, gli atleti dovranno ripetere per cinque volte il circuito del rio di Camaiore, poi affronteranno per sei volte il percorso collinare Monte Pitoro-Montemagno con il Gran Premio della Montagna fissato a quota a 240 metri sul Pitoro. Infine l'arrivo sotto lo striscione piazzato in Viale Oberdan a Camaiore per un totale di 198 km. E adesso andiamo a vedere con l'ausilio della grafica la composizione dei gironi dilettanti per la prossima stagione 99-2000 che sono stati resi noti proprio oggi pomeriggio. Cominciamo dall'eccellenza Girone A, Picchi Livorno, Larcianese, Barberino Mugello, Borgabugiano, Cappiano, Cascina, Cecina, Certaldo, Forcoli, Forte e Remarmi, Isola d'Elba, Ponsacco, Monte Calvoli, Monte Catini, Ponte Remolese, Porcari, Monte Carlo. Promozione Girone A, Bozzano, Calenzano, Cutiglianese, Fiesole, Filetto, Folgor, Marglia, Impavida, La Portuale, Massarosa, Piano di Conca, Ponte del Giglio, Prato Ovest, Seano, Signa, Uzzanese, Baianese. Prima categoria Girone A, Barbarasco, Barga, Borgamozzano, Candia, Romagnano, Capezzano, Centro, Lido, Coreglia, Marina di Petrasanta, Molazzana, Montignoso, Piazza Al Serchio, Pieve Fosciana, Podenzana, San Marco, Avenza, Silli Cagnana e Schiava. Seconda categoria Girone C, Ania, Aquila, Bagni di Lucca, Castelvecchio Pascoli, Chiesina, Club 81, Corsagna, Gallicano, Ghevizzano, Morianese, San Colombano, San Romano, San Vito, Unione 98, Valle di Ottavo e Virtus. Minibasket, un'importante carica è stata conferita nei giorni scorsi a Vincenzo Suffredini, già dirigente provinciale di Minibasket. Vediamo il servizio di Guido Casotti. Ormai da molti anni Vincenzo Suffredini si impegna per la crescita del settore minibasket e propaganda. Prima lo ha fatto a livello locale con il CEFA Castelnuovo, poi anche a livello provinciale. Proprio nei giorni scorsi gli è stato conferito un incarico davvero importante che va a premiarlo del lavoro svolto in questi anni. Lo abbiamo incontrato durante il camp estivo al Ciocco. Sono stato eletto come membro toscano insieme ad altri 5 o 6 componenti di tutta di Ute Italia. L'importanza della commissione è elevata, nel senso che è la commissione che gestisce praticamente tutto il Minibasket a livello nazionale. Ora la prima riunione sarà il primi di ottobre e dopodiché inizieremo a lavorare anche in questo campo. Quindi dopo una pausa dello scorso anno abbiamo trovato la soluzione del Ciocco che in un primo momento la partenza eravamo un po' tutti tesi perché doversi integrare come federazione, come bambini all'interno della struttura del Ciocco ci dava qualche preoccupazione, ma non più di tanto perché siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione del Ciocco Ragazzi, alla collaborazione di tutto il Ciocco, a organizzare l'attività al meglio e ora sicuramente è già rodata e sta funzionando in modo perfetto. Ultima notizia di sport, Mario Cipollini, indiscusso dominatore nelle volate e grandi giri, si tolge l'ospizio di vincere anche in pista. Infatti il campione lucchese si è giudicato la sei giorni di Firenzuola, confermando così di avere i mezzi per ben figurare anche i mondiali di Berlino, dove Super Mario si cimenterà nella prova dell'inseguimento individuale. E con questo termina anche la pagina sportiva, adesso una breve introduzione pubblicitaria e poi passiamo alla terza parte del TG. La concessionaria Intercar, all'unata Lucca, vi presenta la nuovissima Jeep Grand Siroki, benzina e turbodiesel, eleganza tecnologica senza confronti e il mitico Mitsubishi Pajero, ora anche nella versione sport 5 porte, in prova da Intercar. Domenica 8 agosto a Castelnuovo Garfagnana, secondo l'Assegna Nazionale, artisti di strada, giullari, saltimbanchi, maghi, trampolieri, mangiafuoco, acrobati, facchiri, giocolieri e illusionisti e per i più piccoli il teatro dei burattini. Grande animazione nel centro storico dal 17 alle 24, shopping nei negozi aperti fino a mezzanotte. Ottica Vogue Ed eccoci alla terza parte del nostro telegiornale, cominciamo con una notizia che riguarda On The Rock. Si è conclusa l'edizione 99 del concorso musicale per band emergenti, organizzato dal gruppo dalla Comune di Capandoli nell'ambito del progetto Giovani. Il premio per la miglior voce se lo ha giudicato il gruppo Speed of Light, che si è portato a casa anche il premio per il miglior brano inedito. Il premio per la migliore esecuzione della cover è andato al gruppo Pig Greco, mentre gli Wizard Profes si hanno ricevuto il premio del pubblico. Durante l'ultima serata della manifestazione è stato consegnato un riconoscimento anche ad alcune band che si sono esibite nella serata dedicata a On The Rock Giovani. Ottimo bilancio dunque per l'edizione 99 del concorso, 1230 biglietti di ingresso venduti, il cui ricavato è 1.230.000 lire, sarà devoluto al fondo di solidarietà promosso dal Comune di Capandoli e realizzato dalla consulta comunale del volontariato. E veniamo a Mologno dove proprio ieri è stato presentato un simpatico varietà messo in scena proprio dagli abitanti del paese. Vediamo il servizio di Guido Casotti. Un folto pubblico ha assistito a Mologno alla quarta edizione dello spettacolo di varietà Cadono le stelle. La serata, organizzata dal Comitato Paesano, si è dipanata interessanti e ricca di spunti davvero divertenti, tanto più che bisogna considerare che tutto il cartellone è stato prodotto e realizzato in casa dagli abitanti di Mologno, piccoli, giovani e meno giovani. Dicevamo di un programma ben articolato, un balletto curato dalle ragazze più grandi ha costituito anche la sigla di apertura. Quindi c'è stata una breve presentazione, seguita da un ironico TG Estate. Da non perdere poi le varzellette raccontate dai bambini, lo sketch Buonasera Dottore, un perfetto imitatore di Giorgio Panariello, una versione paesana di Forum ed ancora altri momenti divertentissimi. Alla fine della serata, l'incasso che ha superato il mezzo milione di lire è stato consegnato al gruppo volontari della Solidarietà di Varga, che era rappresentato da alcuni ragazzi del centro. Vi ricordo un appuntamento musicale molto importante che è in programma a Castelnuovo Garfagnana per il 5 agosto. Alle 22 in piazza Umberto si terrà il concerto di Antonella Ruggero. L'ingresso è gratuito, la manifestazione è stata organizzata con il patrocinio della provincia di Lucca e del comune di Castelnuovo Garfagnana. Vediamo adesso le nostre rubriche cominciando da Consumi, curata per noi da Guido Casotti. Queste le principali variazioni dei prezzi al consumo rispetto alla rilevazione del mese di giugno. Numerose variazioni in aumento e poche in diminuzione per i prezzi dei generi alimentari e delle bevante, tra i prodotti in aumento da segnalare la pasta di semola di grano duro, i biscotti prima infanzia e piselli in scatola, la frutta sciroppata ed il vino comune. Tra quelli in diminuzione invece la farina di Gran Turco, i grissini e pomodori pelati. Nel comparto delle carni fresche e rinsaccati rincara il fegato di bovino adulto, vitello, calano carne fresca, suina senza osso, mortadella di prima qualità e prosciutto cotto di coscia. Tra le quotazioni dei prodotti lattiero caseari si segnalano in ribasso Bel Paese e mozzarella di bufala. In crescita i prezzi della frutta fresca in calo agli ortaggi freschi e tra la frutta secca, dove si fa notare solo l'aumento delle prugne secche. Infine i prezzi del pesce fresco registrano un modesto ribasso medio. E adesso prima di chiudere le previsioni del tempo per domani, cielo sereno con addensamenti cumuliformi più consistenti su rilievi nelle zone interne, dove non si escludono brevi temporali. Le temperature sono stazionari, i venti deboli e i mari quasi calmi. Il nostro telegiornale termina qui, vi ringrazio di averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Cinque paia di calzini uomo da 9.900 lire, copriletto fantasia da 15.900 lire, completi matrimoniali da 29.900 lire e inoltre un grande assortimento di tappeti, tessuti, tendaggi a partire da 1.900 lire e alla Texnova le meravigliose liste di nozze. Texnova ti aspetta a lunata Lucca vicino all'essa lunga. Game, game, game! PlayStation sì! Nintendo 64 sì! Game Boy sì! I migliori giochi, le più potenti console e tutti gli accessori a prezzi ultra convenienti. E se hai una vecchia console, non la buttare, noi te la supervalutiamo. Vieni a trovarci al reparto elettronica del supermercato Conard a Fornaci di Barga. Telefono 709987, RS elettronica. Tutto il resto è Game Roba! Dalla 1979 la concessionaria Rossi rende facile la pulizia di ciò che vi è più caro. Per l'industria, per la casa, per gli hobbies, per i mezzi di trasporto. Impianti speciali per il lavaggio ad alta pressione, idropulitrici e macchine per la pulizia della casa. Rossi Vittorio, distributore della Car Carly del Mondiale del Settore, vi offre modelli per tutte le esigenze, assistenze e ricambi. Siede a Sant'Anna, Lucca, via De Gasperi, 95i. Intercar, concessionaria esclusiva Subaru per Lucca, Pisa e Provincia. Vi presenta la nuovissima Legacy, quattro ruote motrici 2000-2005 e la versatile Forester, tre auto in una. Subaru, continua l'effetto calamita. Volete passare una serata in compagnia ed assaggiare le specialità che il Sottopoggio vi offre? Fra grandi pizze, gustosi primi e secondi piatti. Rinomati vini potranno accompagnare il vostro appetito e perché no, concludere con un ottimo dessert. Ristorante Sottopoggio, Aguamo Lucca. Il calcio con i colori della tua squadra è su Noi TV In esclusiva le partite di serie C di Lucchese, Viareggio, Castelnuovo. Domenica, lunedì e martedì alle 23 le partite della tua squadra in chiaro, senza canoni e abbonamenti. Sono solo su Noi TV. Orari degli uffici? Informazione dagli enti pubblici? Notizie del giorno? Sul Televideo Noi TV trovi le risposte. Premi il tasto giusto sul tuo telecomando e inizia a consultare le pagine che ti interessano. Magnani, cartoleria, libreria, giocattoli, articoli da regalo a Castelnuovo con tutte le novità, librarie e prenotazioni, testi scolastici. Prenota i tuoi libri scolastici da Magnani. Avrai rapidità di consegne e ti verrà consegnata la card con diritto agli sconti su tutta la cancelleria con le marche più affermate a prezzi strabilianti. Da Magnani troverai anche personal computer garantiti 3 anni con pagamento in 12 mesi senza interessi e prezzi scontatissimi su PlayStation. La nostra destinazione non è mai un luogo ma un modo nuovo di vedere le cose. Il Ciocco International Travel Service ti aspetta nella sua nuova sede in via Giovanni Pascoli a Barga. Telefona al 723426 o 723154 scoprirai nuovi orizzonti. Hai mai pensato che puoi cambiare le tue lenti a contatto ogni mese? Conosci i vantaggi per i tuoi occhi? Quanto pensi che costi questa opportunità? Una sola risposta per tre quesiti. Ottica Ruffo. Per risolvere i problemi più complessi come astigmatismo, ipernetropia, miopie anche elevate, lenti a contatto con cui è possibile dormire anche durante la notte. Da Ottica Ruffo troverai personale altamente qualificato per ogni tua esigenza. Ottica Ruffo. A San Concordio presso il centro commerciale S. Lunga. Frage Ruffo. Per risolvere i come aculusi e il c'era nella sua sinistra.